Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Siamo con il consigliere comunale Federico Taverna che giovedì 28 gennaio alle ore 21 presso l'ex caserma di Cavalleria aprirà l'incontro con il giornalista Tony Capozzo che sarà a Voghera per presentare la sua ultima opera letteraria. E' effettivamente così dottor Taverna? Effettivamente così. Giovedì sera alle 21 alla sala Beccari Tony Capozzo presenta il suo libro Il segreto dei Marò. Tony Capozzo lo conosciamo tutti, è un giornalista di inchiesta siamo stati abituati a vederlo in scenari parecchio difficili, parecchio complicati, zone di guerra e si è occupato in prima persona della vicenda dei nostri due militari detenuti ormai in stato di prigionia da circa 4 anni senza, vorrei ricordare, alcun capo di imputazione. Mi viene da chiederle qual è la sua opinione a riguardo proprio su questa vicenda. La mia opinione a riguardo è un'opinione pessima di come l'Italia, la politica, le istituzioni stiano gestendo questa cosa perché non è pensabile avere due militari che rappresentano la nazione quindi non è una questione di destra, di sinistra, non è una questione ideologica, non è una questione di appartenenza di partito, è una questione di dignità nazionale che viene calpestata da più di 4 anni perché come ripeto i nostri due militari non sono ancora accusati di nulla formalmente, non sono stati nemmeno rinviati a giudizio, ci sono delle contraddizioni evidentissime fra quella che dovrebbe essere una seria indagine da parte della giustizia indiana quindi tutto questo è impensabile dal mio punto di vista che un paese come l'Italia non sape reagire a questa sfida secondo me anche del governo indiano. quindi Tony Capozzo nel suo libro racconta e mette in luce degli elementi inediti inediti perché televisioni, giornali, politica non ne parlano e non ne parlano perché sarebbe bello scoprire perché Tony Capozzo ci dirà ovviamente il suo punto di vista non sarà conoscendo Tony Capozzo un convegno, un incontro di tipo retorico lui non crede che i nostri due militari siano due eroi perché sono due militari lui crede che i nostri due militari sono due persone che stanno facendo il loro lavoro e che sono stati accusati ingiustamente probabilmente per coprire le distrazioni o gli errori di qualcun altro ecco il pubblico presente e i cittadini potranno interagire con il giornalista oppure no? beh certamente, come ripeto non è una questione diciamo di appartenenza politica non è una questione di destra o di sinistra chi vorrà fare domande, chi vorrà dire la propria opinione, esprimere il proprio perere è invitato a farlo, ci mancherebbe altro ecco dal suo punto di vista invece quali sono le principali contraddizioni che lei ha riscontrato nell'inchiesta da parte della giustizia indiana? beh la prima, la più evidente è quella che dopo quattro anni non sono ancora stati rinviati giudizio la seconda è che è il corpo del reato quindi la nave dove erano i due poveri pescatori che ripeto erano due persone che meritano giustizia ma meritano una giustizia vera, non due colpevoli presi a caso beh la nave dove erano sopra i due poveri pescatori anziché costituire un elemento centrale come prova di reato casualmente una settimana dopo gli avvenimenti è stata fatta affondare non mi faccia dire altro perché altrimenti svelo quelli che potrebbero essere un po' gli elementi inediti contenuti nel libro di Capuozzo Sarà presente anche Carlo Barbieri giovedì sera, il nostro sindaco manca poco insomma la convalida del Tar che probabilmente in un qualche modo confermerà quello che è stato il riconteggio dei voti da parte della prefettura come vede il futuro della maggioranza e della nostra amministrazione? Noi aspettiamo serenamente quello che può essere l'udienza del Tar del 17 febbraio chiaramente così come le altre forze politiche che si sono presentate alle elezioni così come gli altri candidati che si sono presentati alle elezioni hanno fatto valere o fanno valere le loro ragioni in sede di giustizia amministrativa noi faremo valere le nostre quindi fino a quando noi riteremo opportuno dal punto di vista legale procedere in azioni che ci tutelano se possiamo farlo credo che lo faremo e poi certamente verranno le valutazioni anche politiche certamente importanti noi crediamo di essere un'amministrazione di centrodestra votata legittimamente dai cittadini abbiamo sfidato al primo turno gli altri due candidati e li abbiamo distanziati con circa 8 punti percentuali che tradotti valgono 1.600-1.700 voti al secondo turno abbiamo vinto sulla compagine che vedeva l'ex sindaco Toriani candidato sostenuto dalla Lega seppur di poco comunque abbiamo vinto quindi noi ci sentiamo assolutamente legittimati ad amministrare e siamo pronti, ripeto, ad accettare serenamente quello che può essere una sentenza in merito a un ricorso che è stato fatto Porta la tua azienda in questo video JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte